Purtroppo, po, 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 purtroppo mi sono dimenticato di amandarvi a manculo, puttane. Vi chiedo scusa, puttane. Ringrazio Alex Polidori, Polidori odi, Alex Polidori, e Alex il leone. Buona visione. Muschio selvaggio, tifo, muschio selvaggio, figuro massaggio. Benvenuti a questa nuova puntata di Muschio se il muschio, ospiti con noi, bimbo ragno. Oh, lo burro! Lo sai che io ero l'unico che credeva in te? Non sarebbe successo niente se lei mi avesse ascoltato! No, ora ti cuci la bocca! Sì, signore, io mi scusi, mi scusi. Mi scusa non serve. Capisco, volevo essere come lei. E io volevo che tu fossi migliore. Perché l'allenamento prevede cosa? Corsa? Corsa? Fate pesi, no? Quanto dura un allenamento? Testa di cazzo! Quindi... Cercate cazzi, no? Sì. Quattro o cinque ore. Cazzo, quattro o cinque ore tutti i giorni? Mamma mia! Che vuoi? Mamma mia! Porca miseria! Mamma mia! Io quando ero... Quando ero... Quando ero... Quando ero... Quando ero... Giovane... A dicembre parliamo degli europei, ok? 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 No, non c'è più religione. Dio... Pwanko. может... Sì. Pwanko! の... Grazie a tutti.